Leggo dalle anime elementari L'Amisider nasce nel 2014 grazie a 30 anni di esperienza nella lavorazione e nel commercio dei coils al basso tenore di carbonio. Questa esperienza ci permette di eseguire il prodotto finito alle migliori condizioni, accogliendo con sensibilità ed attenzione tutte le esigenze dei nostri clienti. Un anno fa un altro infortunio, un altro operaio, amputate tre dita. Le paratie erano state installate. L'operaio si sarebbe chinato sul nastro, sarebbe rimasto incastrato col braccio, sarebbe rimasto schiacciato da un rullo. È morto a 26 anni all'interno di un'azienda che lavora metalli. Non ha sofferto, è andata via, meglio così. Le badanti gridano quando le nonne muoiono, non hanno degnità le urla silenziose di chi perde il lavoro all'improvviso. Piazza Colombo Non è questione di metempsicosi, è che brava la tua anima a migrare, si solleva come aria, si nasconde fra i reglietti e gli spinosi, fra le rimiganti dell'uccello.